C'è preoccupazione per i lavoratori dei settori amministrativo e tecnico dell'ASPA assunti per fronteggiare l'emergenza Covid. Si tratta di fatto di lavoratori precari, per i quali recentemente era stata varata una legge ad hoc dall'Assemblea regionale siciliana che permettesse loro di essere stabilizzati dopo un concorso pubblico o selezione. Legge che però è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri e quindi adesso è a rischio l'eventuale percorso di stabilizzazione. La situazione è stata rappresentata dal coordinamento regionale dei professionisti per l'emergenza Covid-19, la cui rappresentante per l'ASP di Caltanissetta è la nissena Federica Giorgio, la quale ha sottolineato il ruolo importante rivestito dai lavoratori in un momento difficile dal punto di vista dell'emergenza sanitaria. Lavoratori che non godono di ferie, malattie, permessi o festività, ma che sono comunque trattati allo stesso modo di medici, infermieri e operatori sanitari. C'è da capire, qualora l'iter successivo all'impugnazione della legge sulla stabilizzazione vada in porto, quale sarà il destino di questi lavoratori. Abbiamo contattato l'ASP nissena per chiedere qualche chiarimento in più, ma al momento non abbiamo ricevuto risposta. Restiamo a disposizione qualora l'ente decida di intervenire sulla questione.